di valeria costantini nella rea negli ultimi giorni non ci sono lamentele di persone scomparse gli indizi la fiamma stilizzata tatuata sul braccio la maglietta della discoteca etò una lesione alla testa compatibile con un infortunio contundente senza acqua nei polmoni e due indizi un tatuaggio e camicia il cadavere tuttavia lo fa appoggiarsi per una morte violenta non morte per annegamento esame del dna per identificare la sul caso indagare sui carabinieri di ostia che stanno esaminando eventuali lamentele di persone scomparse finora senza esito oltre a usare gli esami del dna per tracciare l'identità dell'uomo le correnti del mare di fronte della costa romana tendente a nord ed è quindi plausibile che il corpo possa essere arrivato nell'acqua da sud da roma o addirittura dal tiber non c'erano segni evidenti di annegamento i polmoni erano vuoti la vittima è prima di cadere in acqua il procuratore di cività vecchia responsabile della zona ha ordinato l'autopsia dopo i primi test clinici che hanno portato alla scoperta del cranio sul cranio grazie a tutti grazie a tutti